Mr. Bolt, è un vero piacere averla qui. Grazie. Lei ha vinto due medaglie all'Olimpiadi? No, no, tre. Complimenti. Le abbiamo riservato la nostra suite più esclusiva. Buongiorno. Prego. Solo un cliente Sky ha tutte le medaglie dei giochi olimpici London 2012. Dal 27 luglio su Sky Sport. Sono tante. Sono tutte. Grazie.